A questo punto diamo spazio di nuovo alla coppia ospite che si è esibita proprio all'inizio della prima parte che sta per volgere al termine di questo primo meeting internazionale della danza Città di Pompei. Sto parlando degli artisti Stanislav Belejewski e Anastasia Dunez, ancora insieme a noi qui sul palcoscenico, per presentarci, tratto dalla Esmeralda, il Grand Pas de Si, nel quale vedremo anche qui sul palcoscenico le giovanissime Emma Catapano, Fiorella De Ruvo, Cetti Di Maio e Noemi Manuela Martone. Abbiamo detto, la coreografia è tratta dalla Esmeralda e un palco di sì. Le coreografie sono di Fokin e le musiche sono di Pugni. Stanislav Belejewski e Anastasia Dunez a voi. La coreografia è tratta dalla Esmeralda e un palco di sì. La coreografia è tratta dalla Esmeralda e un palco di sì. La coreografia è tratta dalla Esmeralda e un palco di sì. La coreografia è tratta dalla Esmeralda e un palco di sì. La coreografia è tratta dalla Esmeralda e un palco di sì. La coreografia è tratta dalla Esmeralda e un palco di sì. La coreografia è tratta dalla Esmeralda e un palco di sì. La coreografia è tratta dalla Esmeralda e un palco di sì. La coreografia è tratta dalla Esmeralda e un palco di sì. La coreografia è tratta dalla Esmeralda e un palco di sì. La coreografia è tratta dalla Esmeralda e un palco di sì. La coreografia è tratta dalla Esmeralda e un palco di sì. La coreografia è tratta dalla Esmeralda e un palco di sì. La coreografia è tratta dalla Esmeralda e un palco di sì. La coreografia è tratta dalla Esmeralda e un palco di sì. La coreografia è tratta dalla Esmeralda e un palco di sì. La coreografia è tratta dalla Esmeralda e un palco di sì. La coreografia è tratta dalla Esmeralda e un palco di sì. La coreografia è tratta dalla Esmeralda e un palco di sì. La coreografia è tratta dalla Esmeralda e un palco di sì. La coreografia è tratta dalla Esmeralda e un palco di sì. La coreografia è tratta dalla Esmeralda e un palco di sì. Grazie.